Benvenuti nel mondo degli orologi Boucheron. La storia di Boucheron inizia nel 1858, quando Frédéric Boucheron, un giovane gioielliere di Parigi, aprì la sua prima boutique nel prestigioso Palace Royal. Frédéric Boucheron era un visionario, che aveva l'ambizione di creare gioielli che fossero non solo belli, ma anche innovativi e originali. Oggi, la Maison Boucheron è una delle più prestigiose case di gioielleria al mondo, che offre una vasta gamma di gioielli e orologi da polso, che si distinguono per la loro qualità, originalità e personalità. La padronanza tecnica è un valore che la Maison Boucheron ha sempre perseguito nella produzione dei suoi gioielli e orologi, che sono il risultato di una sapiente lavorazione artigianale e di una scelta accurata dei materiali. La Maison Boucheron utilizza solo materiali di altissima qualità per la produzione dei suoi gioielli e orologi, come l'oro, il platino, i diamanti, le pietre preziose e le perle. Questi materiali rendono i gioielli e gli orologi resistenti e duraturi nel tempo. La Maison Boucheron si ispira a diverse fonti di ispirazione, come la natura, gli animali, le culture esotiche, l'arte e la moda per creare gioielli e orologi che siano in grado di stupire e di emozionare. La Maison Boucheron offre una grande varietà di stili, colori e forme, per permettere a ogni cliente di trovare il gioiello o l'orologio che meglio si adatta al suo gusto e al suo stile. In conclusione, grazie alla loro padronanza tecnica, al loro talento artistico e alla loro espressione della personalità, i gioielli e gli orologi Boucheron si distinguono dagli altri accessori sul mercato e sono diventati un vero e proprio simbolo di stile e di eleganza. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!